Salve, sono Edoardo Ottenelli, studente di lingue, letterature e studi interculturali presso l'Unifi. Questo è il corso di filologia germanica della professoressa Vezzosi, che si tiene il secondo anno del corso di laurea. Specificamente questa è la parte comune del corso di filologia germanica, quindi non sono inclusi i lettorati di lingue o gli approfondimenti personali. In questo primo capitolo si tratterà in generale la filologia, e nello specifico la filologia germanica, sia sulla materia generale, sulla disciplina in sé, che sulla sua storia. E, conseguentemente, anche le glosse germaniche verranno trattate per sommi capi. Dunque, cos'è la filologia? E quando nasce? La filologia nasce già nell'antichità classica, anche se allora è soprattutto intesa come grammatica finalizzata all'esegesi, ovvero all'interpretazione critica dei testi. Il cambio in senso moderno lo si ha durante l'umanesimo, in seguito alla riscoperta dei classici greci, di scoperta che comporta un cambio nella materia, nella disciplina, che sposta il suo focus, la sua attenzione, dall'interpretazione del testo al testo in sé. La filologia germanica è l'insieme delle discipline intese alla ricostruzione di documenti letterari e alla loro corretta interpretazione e comprensione, sia come interesse limitato al fatto letterario-linguistico, sia per approfondire tramite questi ultimi una civiltà o una cultura. Ovviamente, in quanto germanica, il campo di studio della disciplina è limitato agli antichi popoli germanici. Grazie. Grazie.